Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, intanto come state? Mi auguro bene, stasera c'è la partita Vedete, io rispetto al campionato mi aspetto un atteggiamento molto diverso in Coppa Italia Sono partite secche, è un trofeo alla portata, oltretutto la squadra più forte di quest'anno è stata eliminata da una grande cremonese che ieri ha fatto fuori persino la Roma Ragazzi, non dobbiamo guardare in faccia a nessuno, noi dobbiamo cercare di arrivare fino in fondo in questa competizione perché è importante Ora, andrò a breve a Torino, partirò verso le 15.30 da qua, andrò a fare delle riprese con la mia Insta360 Ragazzi, trovate il link in descrizione se vi piacciono questi aggegini Questa ragazzi è una camera seria che potete utilizzare per fare delle riprese in bici, in volo, nel vostro parappendio Insomma, per tutti gli sport estremi questa si presta molto bene Io andrò lì a fare dei timelapse e altre cosettine che poi vedrete nei vari video Però non è di questo che voglio parlarvi, non solo della partita Certo, andremo a vedere un po' la formazione tipo ipotizzata dai vari giornali Che hanno avuto delle conferme sulle ultime prove di Allegri Ma voglio anche parlarvi di un rumor che gira in ambito giornalistico Legato alla richiesta del procuratore Kine per quanto riguarda l'inchiesta stipendi Ed è anche di questo che andremo a parlare Prima di iniziare, ragazzi, ovviamente vi invito a dare massimo sostegno al canale Per tutte le attività che verranno fatte su questo canale Tanti contenuti anche oggi, ci sarà il post partita Domani mattina troverete subito il video dallo stadio, eccetera, eccetera Troverete un sacco di cose interessanti Allora, trovate immediatamente già la possibile formazione E ci arriviamo Ma prima di farlo, scaricatevi anche la PuanFootball Trovate il link in descrizione La migliore app per rimanere sempre sul pezzo, aggiornati sul calcio E se volete l'arlo, le formazioni ufficiali escono molto, molto rapidamente Cerca una prima della partita La probabile formazione contro la Lazio però dovrebbe essere questa Per in importa Danilo, Bremer, Aleksandro Quadrado Fagioli, Locca, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlaovic Questa dovrebbe essere la formazione E vediamo un po' che cosa succederà Allegri è stato molto bravo negli anni a incartare Sarri Una volta ricordo che Sarri ce l'ha messa in quel posto Con il colpo di testa di Koulibaly Vi ricordate? 2018 E là il Napoli giocò anche decisamente meglio rispetto alla Juve Oggi sono curioso di vedere come giocherà la Lazio Una Lazio che recupera persino Cino Immobile Per cui, tante curiosità dietro questa partita Voglio vedere una Juve come quella vista in campionato Qualcuno mi dice, colpo tu quando vai allo stadio e porti sfiga Io Juve Lazio l'ultimo che ho visto di quest'anno è il 3-0 Io c'ero Grande prestazione Per cui, quest'anno va così E come sparare, cioè come giocare alla roulette russa Cioè, vai allo stadio Se sei sfortunato ti capita il proiettile Questa è Però, insomma, è una partita a cui tengo tanto Visto e considerato che il campionato ormai è andato Ma è andato di brutto Questo trofeo, anche vista la penalizzazione E la futura penalizzazione di cui andremo a parlare a breve È il rischio di non beccare le coppe europee Per cui, la Coppa Italia ti dà accesso Almeno alla Coppa dell'Europa League Che è un trofeo a cui tengo E io credo che la Juventus debba onorarla quest'anno Quindi, una porticina per l'Europa Anche se non è l'Europa che conta la top E dell'Europa League Va bene lo stesso Visto il momento, va bene lo stesso Per quanto invece riguarda le anticipazioni Intanto, ragazzi, io trovo strano Che in un paese come l'Italia Vengano, ci siano tutti questi rumor Legati a quella che è la richiesta di chi ne è Come caspita, fanno a saperla prima Cioè, non è una cosa giusta in realtà Però, a quanto pare, la richiesta che farà La procura federale Insomma, del Tribunale Sportivo Per il filone stipendi è di 20 punti di penalità Che andrebbero ad aggiungere 6-15 Quindi 35 In questo momento, ragazzi, siamo a 3 punti 3 Quindi da salvarci Pedalare per salvarci Altro che E quando Allegri parlava probabilmente In quella conferenza stampa Dobbiamo pensare a salvare Ce lo faceva con criterio Perché se il ricorso al collegio non va Il collegio del CUNI non va Eh, ragazzi È un bel problema Oltretutto Su questo aspetto, ragazzi Ripeto Corriere dello Sport l'ha tirata fuori Questa storia della penalizzazione Della richiesta di chi ne è Vediamo che cosa succederà Anche là, in realtà Il regolamento federale dice Una cosa interessante Ovvero che Quella situazione legata agli stipendi Eccetera Dovrebbe portare a un'ammenda Di 1 o 3 volte I soldi che sono stati spostati I soldi che comunque sono Al centro della discussione Non a una penalizzazione Però, ragazzi Noi Anche l'inchiesta plus valenza Eravamo tranquilli A un'ammenda ad 800.000 euro Invece Poi com'è andata a finire Con la penalizzazione Perché si è Sfociato tutto Sull'articolo 4 Alla fine E rischia anche qua Nella manovra stipendi Che insomma Ci sia questa Questa manovretta qua Vediamo che cosa succederà Per quanto riguarda Invece il rumor Sul ricorso Alconi Tanti giornalisti Anche Tancredi Palmeri Riccardo Meloni Che sono Dei giornalisti Comunque Che riportano I fatti Juve Iniziano a tirare Dicono che qualcosa Stia cambiando Per quanto riguarda Le sensazioni Legate al ricorso Alconi Cioè Se l'evento si fa Ricorso Alconi Il rischio è quello Di rivedersi Di rivedere Quei 15 punti In classifica Io ragazzi Non ne sono convinto E non voglio assolutamente Illudervi Non illudetevi Cioè andiamo a pensare Sempre al peggio Mal che vada Tutto ciò che arriva In questo momento È tutto guadagnato Ma io ragazzi Non credo minimamente A dei cambi Strani Io credo che La sanzione Verrà riconfermata Ma non perché Ci siano dei contenuti Solidi Dietro Perché Per come è stata svolta E per come I meccanismi Che operano All'interno Della giustizia sportiva Io non riesco Ad avere fiducia In questo sistema E credo che Inizino a vacillare Anche le certezze Dei più giustizialisti In caso Inizi A cambiare idea Il collegio del Coni Su quella che è stata La sentenza Alla corte federale D'appello Cioè Se il Coni dice No La sanzione Va bene Ok la menda Ma non la penalità Non la penalizzazione Il rischio Ragazzi Sapete qual è E che poi Tutti quegli Antigiuventini Che stavano Marciando E ballando Inizino a sputtare Cacca su di noi Che abbiamo influenzato Sicuramente Il giudizio Della Insomma Della Significa che Qualcosa Non è stata Fatta bene Io lo dico sempre Quando Per esempio Un arbitro di calcio Viene contestato Da entrambe le squadre Significa che Qualcosa di sbagliato Da una parte All'altra L'hai fatto Non sei stato lineare Il metro di giudizio Non sei stato Assolutamente Assolutamente Equo E quindi Qualcosa Da una parte All'altra La tralasci Questa è la mia È la mia idea Ecco Niente di più Detto ciò Ragazzi Io mi preparo Che a breve Si parte A Torino Vedere Questa partita Di Coppa Italia Importantissima Ci sto tenendo Più del campionato Lo potete sapere Ci tengo più del campionato In questo momento La Coppa Italia Perché? Perché non ci resta altro Un abbraccio ragazzi E sempre Fino alla fine Forza Juve Speriamo bene